Eccoci qua, ciao a tutti, buongiorno a tutti in questo video per parlare delle relazioni sentimentali e affettive tra fidanzati e mogli insomma, perché una delle cose più strane che però accade con una frequenza molto molto alta è quella in cui molte donne pensano di essere fidanzate con un uomo sposato e questa cosa l'ho trovata sempre interessante, alcune persone addirittura, alcune donne addirittura sono convinte che questo fatto sia un fatto reale, per cui pensano che il loro compagno, anzi lo chiamano proprio compagno uomo, il mio uomo stasera è con sua moglie, oppure il mio fidanzato è andato in vacanza con la moglie, hanno questa caratteristica di credere che un uomo sposato possa essere il loro fidanzato e la cosa strana di questo fatto è che ne sono realmente convinta, accettano il fatto che non una sorta di concubinaggio, ma accettano tranquillamente il fatto che un uomo sposato possa amare loro ma stare con la moglie e questo è assurdo ovviamente, perché un conto è diciamo se uno si è separato, perlomeno magari non divorziato, ma quantomeno separato insomma, invece si tratta di famiglie che alla luce del, come dire, famiglie a tutti gli effetti con appunto moglie, figli, in cui le vacanze ovviamente vengono passate con la moglie, i sabati e i domenici vengono passate con la moglie, a fare la spesa al supermercato va con la moglie, ma l'amante tra virgolette rifiuta il ruolo di amante, ecco questo è quello che secondo me è la cosa poi più assurda, rifiutare un ruolo, non accettare un ruolo, non vedere, non avere una visione corretta della realtà, quindi voler vedere qualcosa di diverso da quello che in pratica è la realtà e questo perché capita? Beh, capita per diversi motivi, il motivo principale è quello, il meccanismo proiettivo, noi quando siamo coinvolti, quando siamo innamorati tendiamo a proiettare, cosa vuol dire proiettare? Tendiamo a, diciamo, a mandare nel, diciamo, tendiamo a a mandare sugli altri, a proiettare sugli altri quelle che sono le nostre esigenze, questo vale anche un po' nell'innamoramento, spesso ci innamoriamo di persone che, spesso ci innamoriamo di persone che non ci danno quello che vogliono, cioè non ci danno quello che vogliamo e quindi noi mettiamo in atto un meccanismo di proiezione, cioè crediamo che ci diano quello che vogliamo, cioè noi abbiamo bisogno d'amore, stiamo con uno che è sposato, poi vediamo di capire i meccanismi perché stiamo con quello sposato e queste donne credono che questa persona sposata appunto gli possa dare quello che loro vogliono. Se lo credono, ma non è così la realtà, hanno una deformazione completa della realtà. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che, diciamo, alla lunga poi questa situazione non regge più e quindi si manifesta gelosia, si manifestano scene di attaccamento, si manifestano, insomma, situazioni poco piacevoli. E però, una volta che si è iniziata questo tipo di relazione, si ha difficoltà poi a chiuderla e si continua a rimanere in quella situazione. Ora, intanto ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e anche sugli altri canali, crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Allora, quindi qual è il meccanismo che soggiace a questo fatto? Beh, il meccanismo è sempre quello del bisogno. E sono persone, donne principalmente, che vivono nell'illusione. Cioè, sono donne che sono, tra virgolette, illuse, ma più che illudersi, si illudono. Si illudono e l'illusione rappresenta, diciamo, l'illusione rappresenta una parte fondamentale della loro vita. Crearsi delle realtà immaginative che non esistono. Inizialmente, diciamo, questo fatto per quale motivo? Perché, tra virgolette, sono innamorate. Ma in realtà non si tratta di amore, si tratta di credere a delle cose che non accadranno mai. Inizialmente possono credere che lascerà la moglie, ma questo è un altro dato, è un altro fatto. La moglie non lascerà mai. Cioè, uno che lascia la moglie, la lascia subito. Questo è il discorso fondamentale. O al massimo, al massimo entro un mese, due mesi, tre mesi, ma non di più. E poi, ovviamente, c'è da tenere presente che l'amante ricopre sempre un ruolo trasgressivo. Quindi nel momento in cui un uomo ha necessità di avere un amante, se per caso, in quei rari casi in cui l'amante diventa moglie, beh, comunque andrà a ricoprire un ruolo istituzionale, per cui presto subentrerà una nuova amante. Il ciclo continua a ripetersi, no? Quindi bisogna accettare il ruolo. Accettare il ruolo, cosa vuol dire? Intanto che non puoi essere fedele, diciamo, a un uomo sposato. Questo è un dato di fatto, no? Perché ci fa, ma è geloso. Mi ama perché è geloso. Ma che c'entra la gelosia? Cioè, non ha senso, no? Essere fedeli a una persona che ha una relazione basata sul tradimento. Questo è un altro di quei paradossi che spesso si manifesta veramente un controsenso assoluto, no? Essere fedele a qualcuno, a una relazione che è basata proprio sul tradimento. Cioè, il tradimento è l'essenza di quella relazione. Quindi questo è un'altra cosa da sfatare. E soprattutto tieni presente questo, che se tu vuoi una relazione stabile. Allora, una relazione con un amante può avere semplicemente due valenze. O lo fai esattamente per il fatto che, diciamo, che ne so, hai trovato quel pollo da spennare e allora va bene tutto. Oppure per il fatto che ti vuoi vivere una trasgressione. Ma altrimenti credere che ci possa essere amore, diciamo, tra un uomo sposato che resta con la moglie e l'amante non c'è amore. Questo non è amore. Perché da parte tua è un attaccamento che non ha senso. Da parte sua è semplicemente un voler trasgredire, una trasgressione. Eppure tantissime donne, credo la maggior parte delle donne che ha un amante, crede che quest'amante le ami. Cioè, arrivano veramente. Ma questa è soltanto una proiezione del loro bisogno di essere amate. Nulla di diverso, nulla di più. E talvolta, anche chi gli dice, ma non lo vedi che questo sta con la moglie? Ma non lo vedi che questo non gli interessi niente? che ti vede ogni tanto, vi vedete al giovedì al parcheggio del cimitero, dovunque vedete, insomma. Ma poi lui ama la moglie. No, no, non ama la moglie. Ama me, ama me. Con la moglie sta solo per i figli, ma con la moglie non va più a letto. Il che è anche probabile che non vada a letto con la moglie. Ma l'amore non è sessualità. La sessualità con l'innamoramento non c'entra niente. Altrimenti gli uomini non andrebbero con le prostitute. Se per fare sesso dovessero essere innamorati, no? E spesso queste donne confondono proprio il fatto che l'amante va a letto con loro e che magari, diciamo, è anche trasgressivo da quel punto di vista, lo confondono col fatto che sono innamorati. Invece non è così. Per un uomo sposato avere un amante è semplicemente una trasgressione, nulla di più. Ripeto, potrebbe in alcuni casi, se avesse veramente intenzione di iniziare una relazione, lascerebbe tranquillamente la moglie e inizierebbe questa nuova relazione. Normalmente, diciamo, le cose avvengono molto, molto rapidamente. Purtroppo, o per fortuna, diciamo, i casi sono abbastanza rari. Ma invece sono frequentissimi i casi di donne che continuano a credere di essere amate da qualcuno che poi in vacanza se ne va con la moglie, le feste le passa con la moglie. E questa è un'altra cosa, è un'altra cosa divertente, no? Questa è un'altra cosa molto divertente che capita molto frequentemente, no? Questo è un qualcosa che succede ed è importante tenere presente questi fatti, no? È importante tenere presente questi fatti e quindi se ha a che fare con un uomo che è impegnato, ma talvolta anche un uomo che magari non è proprio sposato, ma convive, tu pensi che lascerà questa situazione, no? Tieni presente questo, che il meccanismo che soggiace tutto questo è un meccanismo proiettivo che dipende da il bisogno, da un bisogno che tu hai, un bisogno di essere amata. Perché vai a riporre il tuo bisogno di essere amata nella persona sbagliata? Perché un uomo sposato è proprio la persona peggiore, no? Che tu possa scegliere per essere amato. Questo accade perché ovviamente il rapporto con una persona sposata ti dà più emotività. Perché il bisogno di essere amato, diciamo, è un'esigenza logico-razionale, no? La nostra parte logica ha esigenza di essere amata. Ma la parte emotiva ha esigenza di essere emozionata. Quindi quale emozione? Perché dentro di te il tarlo che rode, mi amerà, non mi amerà, ce l'hai, no? Quindi si crea una forte distonia, una forte contrapposizione tra sfera logica e sfere emotive. Quindi c'è una forte emozione, no? Quindi la relazione con un uomo sposato in pratica può soddisfare sia la sfera logica sia la sfera emotiva. La sfera logica la soddisfa andando a deformare la realtà, cioè credendo l'inverosimile, no? Andando a credere quello che praticamente è quasi impossibile. E la sfera emotiva gode di questo fatto e quindi di questa situazione per cui è importante rendersi conto di questa cosa fondamentalmente. Ora, se tu vuoi ottenere quindi dei risultati, se tu vuoi far sì che, diciamo così, questa situazione possa manifestarsi, come dire, e possa esaurirsi, l'unica cosa che devi fare è imparare a fare degli atti di coraggio e a chiudere la relazione. Cioè, devi chiudere questa relazione con questa persona se il tuo vuoi una relazione stabile. Devi chiuderla e devi, diciamo, avere la forza di trovarti altre fonti di approvvigionamento emotivo. È ovvio che se chiudi questa relazione, poi la forza di trovare un approvvigionamento emotivo devi averla, perché se non ti approvvigioni, diciamo, emotivamente, poi resti fregato, resti fregata fondamentalmente, no? Perché ovviamente la parte emotiva sarà, sarà sempre sotto dose per cui non riuscirai a venirne fuori. Quindi questo è l'unico vero modo sensato di venirne fuori. Fare un atto di coraggio, chiudere questa relazione e provare a darti nuove emozioni che possono essere anche frequentate a nuove persone. Oppure, diciamo, oppure potresti semplicemente viverti la cosa come una trasgressione. Se uno si vive la cosa come una trasgressione senza aspettative, allora non ci sono problemi. Ma allora però non credi che il tuo amante in realtà non chiami fidanzato al tuo amante, ma gli dai il nome appunto di amante e quindi ti vivi semplicemente una trasgressione senza aspettative di alcun genere. Ecco. Bene. Quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video e anche i canali crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Grazie a tutti!